Il maltempo dei giorni scorsi con forti raffiche di vento continua a creare disagi. In diverse zone del territorio marchigiano infatti sono stati segnalati continui sbalzi di tensione della corrente elettrica. Secondo i tecnici dell'Enel, intervenuti per ripristinare il servizio, la causa del blackout è la salsedina accumulata sui tralicci. A Fanno sono scattati alcuni sistemi d'allarme facendo allertare le forze dell'ordine e l'energia elettrica saltata ha provocato anche l'allagamento del seminterrato di Prodi Sport. Il negozio di abbigliamento sportivo poteva subire danni economici ingenti ma grazie alla solidarietà dei dipendenti stessi e all'intervento dei pompieri si è riusciti a risolvere la situazione in sole poche ore. C'è stata una serie di circostanze tutte sfavorevoli che purtroppo non hanno portato come conseguenza all'allagamento. La prima è stata l'improvvisa mancanza di energia elettrica dovuta alla caduta di un traliccio qui a 200 metri in mezzo a un campo. E poi è stato che noi abbiamo dei sistemi alternativi quindi il generatore che va e alimenta le pompe perché essendo noi in questo piano sotto il livello del mare quindi siamo soggetti e soprattutto in questo periodo dell'anno quando le falde sono molto alte a possibili allagamenti. All'inizio il generatore è partito normalmente ma dopo un paio d'ore non alimentava più la corrente verso le pompe. A quel punto è scattato l'allarme collegato al telefono del titolare che a sua volta ha allertato i vigili del fuoco. Subito hanno iniziato loro a pompare l'acqua ma già nel frattempo una quindicina di centimetri, 20 centimetri di acqua su una superficie di 400 metri si era sparsa. Però si è formata una catena tra le persone perché sono venuti davvero in tanti ad aiutarvi. Adesso sono stati bravi soprattutto i nostri dipendenti e poi sono stati loro. Io non mi stavo nemmeno accorgendo. Poi per dire mi sono trovato il padre di una ragazza che lavora qui, mi sono trovato il fidanzato di una ragazza, mi sono trovato altra gente che sono arrivata e arrivavano e diceva perché è chi, tutta gente, scarpe tutte bagnate, pantaloni bagnati, al buio, completamente al buio, con stracci, scope, bacinelle di plastica. Questa solidarietà ha permesso anche di salvare tanto materiale qua? Sì, abbiamo salvato quasi tutto. La cosa che dobbiamo verificare, avendo noi molti arredamenti in legno con dei sistemi di truciolare, robe varie, essendo stati bagnati, chissà quante di questi rigonfieranno e se rigonfieranno saranno dolori perché saranno intere pareti di arredamento da risistemare. Speriamo di avere un po' di fortuna.